Abbiamo il piacere di avere qui l'onorevole Stefano Maullu, parlamentare europeo, Forza Italia. L'onorevole Maullu è stato un protagonista di questa lunga battaglia, faticosissima, in mezzo a schieramenti diversi, trasversali. Lei può fare una ricostruzione delle forze in campo? Chi era per una restrizione? Chi era per lasciare le cose come stanno? Intanto io credo che vada fatto un inquadramento più generale. Questa modifica, la direttiva attuale, è nata sotto la spinta emozionale degli attacchi terroristici che hanno caratterizzato nell'ultimo anno e mezzo il continente europeo, da Bruxelles a Parigi, quindi da quello che è accaduto al Bataclan, che ha colpito in maniera rilevante l'opinione pubblica, sino poi un'altra serie di episodi che sono passati per Bruxelles e poi anche per Nizza. Ecco, io credo che da questo punto di vista l'enfasi mediatica ha contribuito a creare le condizioni perché l'apparato burocratico dell'Unione Europea individuasse come principale responsabile il possessore d'arma. Possessore d'arma che è un appassionato per la maggioranza dei casi, lo fa per diletto, quindi va al poligono il sabato o la domenica, piuttosto che semplicemente si ama collezionare i fucili di diversa foggia, di diversa specie oppure è un cacciatore. Sono tanti coloro che usano le armi, che è una tradizione che affonda nella notte dei tempi questo genere di difesa che l'uomo ha avuto sempre di fronte alle avversità di qualsiasi natura fossero e credo che da questo punto di vista occorra sottolineare anche una valenza culturale, produttiva, economica, soprattutto in Italia. In un contesto, quello nazionale, quello italiano, dove le aziende che producono armi sono aziende squisitamente di natura privata, basti pensare ai marchi più famosi che magari non citiamo semplicemente per pubblicità, ma sono marchi la cui eccellenza è nota in tutto il mondo. Sono marchi che vengono utilizzati per le competizioni sportive, sono marchi che vengono utilizzati per la caccia di diversa natura, caccia normale piuttosto che caccia grossa, oppure sono armi da guerra. Io credo che questo comparto che nel nostro paese ammonta circa 1,2 miliardi di euro di fatturato e ha decine di migliaia di persone occupate, sia direttamente che per nell'indotto debba essere preservato, per mille ragioni che spaziano da quella squisitamente industriale e occupazionale a un'altra proprio di motivazione etica. Intaccare la libertà di potersi difendere, quindi di possedere un'arma, io credo sia assolutamente antiliberale. Lo diceva già Cesare Beccaria 300 anni fa e credo che da questo punto di vista vada rafforzato questo concetto, perché il provvedimento, come dicevo all'inizio, che è stato proposto dalla Commissione europea, è frutto di una scelta burocratica, assolutamente ottusa, che riporta l'Europa a quella dimensione non certamente popolare che tutti noi stiamo vivendo, qualcosa che viene imposto senza tener conto delle singole esigenze di ogni paese. Nello specifico l'Italia ha una direttiva puntuale ed è un provvedimento che è stato sviluppato nel 2015 dal Ministero dell'Interno sotto l'effetto del potenziale pericolo dei terroristi, che già limita in maniera molto puntuale il possesso delle armi, che tra l'altro è noto a tutti, viene concesso attraverso una trafila particolarmente rigorosa nel nostro paese, che prevede quindi gli interventi delle questure e i controlli medici che vengono fatti poi in maniera periodica. Ecco, io credo che quindi questa direttiva che è stata proposta al Parlamento europeo e che ha visto il contrasto di una folta schiera di deputati, siamo stati quasi 180 a votare contro, quindi un numero rilevante, ma abbiamo proposto anche una serie di emendamenti migliorativi, prima nel lavoro che è stato fatto in Commissione Inco e poi cercando di modificare la direttiva lì in aula. La direttiva che siamo andati a modificare è una direttiva che, come dicevamo, renderà molto più burocratico il possesso di un'arma, renderà quasi impossibile poterla avere, creerà una serie di problemi veri agli appassionati, a tutti coloro che utilizzano l'arma, ovviamente per difendersi, ovviamente con un porto d'armi, ovviamente semplicemente perché voglio fare attività sportiva e soprattutto creerà anche problemi banalmente a chi vuole avere delle repliche. Credo che questo sia l'aspetto più eclatante, è stata addirittura creata una categoria per poter avere delle repliche, quindi io non ho mai visto un terrorista che vada armato di un fucile ad avancarica con la polvere da sparo e lo stoppino per poter compiere un attentato, non so lei, ma non credo, forse solo nei film, ma questo non accade. Questo per darle il senso dell'assurdo. Allora, aver votato no a questa direttiva, aver votato contro, io credo sia stato un atto di linearità e di onestà nei confronti dei cittadini e voglio dire è meglio avere la testa alta quando si difendono gli interessi nazionali piuttosto che intrupparsi e nascondersi. Ecco perché credo che questa direttiva debba essere accolta nel territorio italiano attraverso la comunitaria nazionale, perché come è noto tutti i provvedimenti europei devono essere recepiti poi dalla legislazione nazionale, cercando di limitarne al massimo i danni. Ed è questo, io penso, il nuovo fronte che dobbiamo aprire, che ci troveremo costretti a combattere per tutelare i legittimi possessori d'arma, tutti coloro che devono avere la necessità. Ma tornando un attimo indietro, la direttiva è profondamente sbagliata perché come ci insegnano gli ultimi attentati di questi giorni, il terrorista non va a comprare un'arma sicuramente in armeria, non compra un'arma legale, le armi usate negli attentati sono prevalentemente di un unico modello che guarda caso è uscito in milioni e milioni di pezzi dai magazzini dell'ex Unione Sovietica o degli stati che erano il Kalashnikov oppure prodotti fatti su licenza in Cina o in India o in qualche altro paese. O un coltello, o un camion, e speriamo che non sia una valigetta nucleare, speriamo che non sia un'arma biologica. Io credo che l'assurdo sia proprio questo, il terrorismo si combatte andando a creare le condizioni perché non si sviluppi lì da dove parte, questo credo sia il ragionamento che si deve fare all'interno dell'Unione Europea, non creando percorsi punitivi per tutti coloro che invece seguono la legge in maniera assolutamente lineare. Credo che veramente il contrasto tra il buonsenso e l'ottusità burocratica sia rappresentato dalla realtà che tutti i giorni noi viviamo. Don Onorevole, cos'è che abbiamo rischiato, invece siamo riusciti ad evitare, grazie al lavoro suo e alcuni dei suoi colleghi? L'abbiamo modificata sicuramente in meglio, l'abbiamo modificata ad esempio sui caricatori, l'abbiamo modificata in parte sulla possibilità di poter avere un'arma che veniva proposta una dimensione quasi di eliminazione totale del possesso delle armi. Però vorrei anche dire un'altra cosa che è interessante, questa è una direttiva che di fatto crea le condizioni perché i paesi a più alta densità di immigrati, le faccio due dati, la Francia ha milioni e milioni di persone che arrivano dal Maghreb e non ha una legislazione nazionale così puntuale come l'ha il nostro paese e io credo che si sia cercata una scorciatoia per poter usare l'Europa e costringere questi paesi ad armonizzare la propria legislazione probabilmente perché non c'era la voglia e il desiderio di poterla affrontare direttamente. Questo è un altro aspetto che credo debba essere sottolineato, molti paesi non hanno una legislazione così avanzata come quella italiana e quindi hanno cercato di far entrare dalla finestra ciò che dalla porta non volevano direttamente proporre ai loro cittadini. Penso che l'Italia invece debba mantenere alta l'attenzione rispetto a quello che di buono ha già proposto sul panorama legislativo, ma noi abbiamo rischiato molto, moltissimo, ma l'abbiamo arginato con una serie di emendamenti. Credo che anche il lavoro fatto in Commissione Inco, pur con tutti i limiti del caso, perché se no avrei votato a favore, oggettivamente va dato atto in particolare alla collega Corazza Bild di aver fatto un buon lavoro a favore prevalentemente dei cacciatori, questo va detto, grazie anche al fatto che i cacciatori in molti paesi, dalla Svezia alla Finlandia, ai paesi baltici, alla Germania hanno un peso preponderante, quindi sono una massa importante che si è fatta sentire e che quindi ha arginato la possibilità che anche i cacciatori rientrassero all'interno della direttiva armi come i singoli appassionati, coloro che invece usano un'arma o semplicemente hanno il desiderio di avere più modelli, ma è la stessa cosa come gli appassionati d'auto, gli appassionati di motocicletta, uno sta attento al particolare, alla motorizzazione, alla cilindrata, alle sospensioni, ecco, chi ha la passione per questo genere di oggetti ovviamente ha magari il piacere di avere una Glock, di avere una Mauser piuttosto che una Smith & Wesson o una Beretta perché ne apprezza le singole caratteristiche. L'AMPAM è stata abbastanza ottimista, almeno di facciata rispetto a quanto è accaduto, secondo lei è una battaglia mezzo persa o mezzo vinta? Ma io credo che sia una battaglia che vale la pena di continuare a fare, senza ombra di dubbio, l'AMPAM ha espresso una posizione, ma l'AMPAM è ovviamente un soggetto che rappresenta trasversalmente i produttori e diversi soggetti, si spazia dai singoli produttori di manufatti sino a chi fa poi invece anche le cartucce, quindi direi che è tutto l'apparato industriale che ovviamente rispetto a un percorso iniziale che gridava vendetta ha trovato dei miglioramenti e quindi essendo abituato a rapportarsi con le normative come giusto che sia, ha creato le condizioni per dire vabbè intanto abbiamo risolto un problema, vediamo poi come possiamo migliorarlo. Credo che sia stato un approccio realistico quello dell'AMPAM. Grazie mille. Abbiamo sentito un rappresentante delle istituzioni, adesso vediamo cosa dicono quelli che hanno il polso in mano, cioè quelli che stanno in mezzo ai ghiacciatori e che li informano.